ciao e finalmente ancora una volta benvenuti a italiano in podcast benvenuti a questo episodio numero 595 di non so bene quale giorno perché oggi è mercoledì è mercoledì e siamo quasi all'ora di pranzo ancora una volta sono qui a chiedere scusa per il mio ritardo e la mia assenza ma sento che è un po' un ritardo un'assenza giustificata da alcune cose accadute in questi giorni che hanno che mi hanno un po' impedito ecco di trovare la giusta serenità per registrare un podcast un nuovo episodio quindi non ho smesso di registrare dopo aver iniziato a far pagare un ammolamento per gli episodi speciali non era questo quello che intendevo fare con questa assenza questa assenza è stata dovuta a fatti più importanti che sono accaduti un po' in questi giorni quindi non ho avuto modo di poter registrare un nuovo podcast quindi ovviamente mi scuso per non aver rispettato ancora una volta il mio programma di registrare cinque episodi anche se questo ormai è deciso per me cambierà dalla prossima settimana infatti saranno quattro episodi quindi lunedì martedì giovedì e venerdì almeno secondo un programma ideale però potrebbe accadere che siano giorni diversi quindi mancherà un episodio a settimana perché ho capito e sono sincero su questo ho capito che non tutti ce la fanno a tenere questo ritmo questo passo e molto spesso infatti gli episodi non sono ascoltati da tutti quanti ma solo una parte vengono davvero ascoltati quindi è un po' inutile è anche un po' faticoso per voi non solo per me stare dietro a tutto questo quindi dalla prossima settimana registrano quattro episodi a settimana e non perché io abbia aggiunto questo quinto episodio speciale che ci sarà due volte al mese forse ma semplicemente perché perché non trovo davvero utile registrare un numero così alto di episodi così grande di episodi spero che siate d'accordo lascerò un sondaggio qui in questa puntata su su quanti episodi secondo voi sono giusti ogni settimana sono utili soprattutto ma comunque quello che voglio dire però è che questo episodio non sarà un episodio normale perché è semplicemente un episodio per riempire questo buco che ho lasciato quindi per un saluto e per spiegare anche un po' come mai questa assenza non non farò le mie introduzioni come sempre non farò le mie chiusure come sempre ma semplicemente vi parlerò di alcune cose ci tenevo molto a parlare di due cose in particolare mi scuso se a quest'ora del giorno forse ci saranno più rumori e quindi probabilmente questo episodio sarà un po' meno buono degli altri un po' meno professionale forse non lo so ma comunque ci tengo a non fermare italiano in podcast troppo a lungo e a cercare di essere più regolare possibile quindi per questa ragione questo questa mattina oggi ho deciso di registrare questo episodio appena ho sentito la possibilità di farlo perché non volevo far passare un altro giorno ma neanche voglio fare appunto davvero un resoconto un riassunto di tutte queste giornate voglio solo spiegarvi un po' la mia assenza e prima però fare un'altra cosa prima prima di tutto in questo episodio numero 595 voglio ringraziare tutti quelli che hanno fatto questo piccolo abbonamento che hanno deciso di supportare per me il podcast e il progetto con la sottoscrizione appunto di questo contributo per migliorare l'italiano in podcast e tutti gli altri progetti anche grazie a tutti loro siete in 11 mi pare fino adesso è un buon risultato e sono davvero contento non ho l'elenco completo di tutti i nomi perché intanto forse c'è un treno scusate perché questa piattaforma mi fornisce solo delle email delle persone che hanno lasciato la loro email non è obbligatorio credo quindi alcune le posso riconoscere altre non le conosco e per questa ragione non dirò i nomi di nessuno ma vi ringrazio tutti tutti voi che lo avete fatto siete stati molto gentili e apprezzo davvero il vostro supporto dopo di questo quello che voglio dire voglio dare alcune spiegazioni su questo su questo su questa idea dell'abbonamento scusate ma oggi non sono molto professionale voglio spiegare ancora una volta qual è il senso di questo abbonamento italiano in podcast resterà libero con i suoi quattro episodi a settimana in futuro quello che è cambiato è solo questo che visto che molti di voi hanno spesso questa è una sirena della polizia scusate dicevo visto che molti di voi mi hanno chiesto alcuni di voi mi hanno chiesto spesso come dare un contributo al podcast qualcuno lo fa con buy me a coffee qualcuno con altri modi io ho semplicemente pensato di dare questa possibilità a chi lo vuole e quindi ho creato questo abbonamento il fatto è che per creare un abbonamento bisogna fissare dei contenuti inclusi nell'abbonamento il mio podcast è libero quindi ho dovuto creare almeno un episodio ma ovviamente voglio in qualche modo ripagare queste persone con altri episodi speciali ho dovuto fissare un episodio per avere la possibilità di mettere a disposizione questo abbonamento perché non posso farlo senza scegliere selezionare un episodio incluso solamente per gli abbonati quindi questo è il motivo per cui ci sono ci saranno degli episodi che solo loro possono vedere è anche un po giusto perché loro hanno dato un contributo ma sono episodi che io creo e ho creato apposta per giustificare sulla piattaforma l'esistenza di un abbonamento quindi questo è un contributo spontaneo per chi vuole farlo chi continua ad usare italiano in podcast non c'è problema e non sono certamente offeso per questo quindi questo è il primo punto che voglio spiegare ancora una volta il secondo punto è che la piattaforma di anchor funziona in modo perfetto con spotify quindi tutto questo è molto facile con spotify perché si vede un unico elenco di episodi quelli liberi e quelli in abbonamento e non c'è nessuna difficoltà si può cliccare su un pulsante si può tappare si dice su uno schermo touchscreen si può tappare su un pulsante e si viene automaticamente indirizzati sulla pagina per per fare l'abbonamento ma sulle altre piattaforme come apple podcast o google podcast o altre è un po più complesso perché non c'è questo collegamento così buono tra queste piattaforme come tra spotify e anchor quindi potete sottoscrivere se volete l'abbonamento su sul podcast presente su anchor quindi sulla pagina di anchor del mio podcast e poi in modo manuale dovete aggiungere questo link che si chiama rss feed nelle vostre applicazioni per ascoltare i podcast purtroppo questa operazione è manuale su queste piattaforme non è automatica come su spotify perché ci sono due rss feed diversi per queste piattaforme questo ovviamente non mi piace non lo sapevo all'inizio l'ho scoperto quando ho creato l'abbonamento ma è purtroppo così per il momento se in futuro cambierò la piattaforma questo cambierà quindi voglio dire a tutte le persone che mi seguono su una piattaforma diversa da spotify voi non vedete questo questi episodi speciali nel vostro elenco per questa ragione perché non vengono mostrati in automatico se volete sapere questo dovreste andare sulla mia pagina anchor c'è un link nella descrizione del podcast o anche in ogni episodio c'è un link e metterò un link dovrete andare su quella pagina e se volete sottoscrivere l'abbonamento per ascoltare quei podcast speciali questa è una cosa che ci tenevo a precisare perché ho avuto anche diversi scambi con il supporto di anchor questo è stato un po frustrante e ho scoperto da poco questo questo aspetto che non sapevo quindi questo anche molto importante ma al di là di questo ci tengo sempre a precisare questa cosa che in realtà non ho creato adesso un abbonamento per italiano in podcast ma è come se avessi creato semplicemente un contributo volontario per ascoltare italiano in podcast quindi tutto rimane praticamente come prima ad eccezione di uno o due episodi al mese che io pubblicherò per per essere inseriti in questo abbonamento mensile ricordo anche a chi ha sottoscritto questo abbonamento che è un abbonamento mensile ma potete fermarlo quando volete non è non è difficile quindi se a un certo punto volete smettere di fare questo non è un problema vi ringrazio già abbastanza per i contributi che avete già dato e molti di quelle 11 persone hanno spesso dato un contributo al podcast e quindi le ringrazio doppiamente ma comunque non voglio parlare solo di questo anche se ci tenevo a chiarire questi aspetti del podcast voglio parlare anche di questi giorni che sono stati un po un po difficili un po stressanti ed è per questo che non ho registrato nessun episodio nuovo qualcuno forse può aver pensato che dall'inizio dell'abbonamento ho aspettato per cercare di ottenere nuovi abbonati ma non è così quello ve lo assicuro magari avessi fatto questo ragionamento no nel senso che le ragioni sono diverse sono un po più difficile non c'entra niente la creazione dell'abbonamento anche se è una coincidenza molto strana insomma che subito dopo l'episodio speciale siano mancati nuovi episodi è solo una coincidenza sabato e domenica infatti sono stato molto impegnato lavorato molto tra le le lezioni e anche nel lavoro per il blog e questo episodio speciale del podcast sabato ho lavorato alla trascrizione ho preparato una trascrizione di questo episodio speciale ma devo ancora capire bene come sia possibile mettere a disposizione questo perché per me non è chiaro su questa piattaforma come io possa farlo quindi sto cercando di trovare un buon modo per mettere a disposizione le trascrizioni degli episodi speciali quindi ho lavorato molto alla trascrizione dell'episodio alla preparazione dell'episodio e poi domenica la pubblicazione ho lavorato molto anche a un altro un'altra cosa ho lavorato molto alla preparazione di un nuovo modello di pagina per il mio per il mio blog un modello che ho costruito quasi da zero praticamente che mi permette di pubblicare testi esercizi e altre cose in modo più efficiente quindi adesso un modello di pagina che è praticamente finito devo solo sistemare un paio di problemi che mi consente di pubblicare in un modo più efficiente secondo me più interessante questi contenuti comincerò a pubblicare la prima parte di questa di questo racconto che ho scritto è un po un test per farvi vedere come come sarà questo nuovo modello di pagina in cui c'è il testo poi nella stessa pagina si può fare un esercizio o due esercizi a seconda di quello che metto a disposizione e poi una terza pagina in cui provo a mettere il vocabolario nuovo che ho utilizzato in questi testi tutto questo in un'unica pagina più facile da utilizzare e più facile insomma da capire anche quindi non devo creare una pagina per ogni aspetto del testo ma inserire il testo e nello stesso tempo mettere a disposizione eventuali esercizi e il vocabolario che ho messo a disposizione che ho utilizzato in questa questa pagina quindi spero che sia un lavoro fatto bene e al più presto pubblicherò questo primo esperimento questa prima primo tentativo per avere anche le vostre opinioni poi magari mi lasciate dei commenti se usate il blog e se leggete questi testi quindi questo è stato un lavoro che mi ha portato via molto tempo sabato domenica e anche lunedì ovviamente ho avuto anche le elezioni lunedì ho avuto anche molto tempo passato proprio con il supporto di anchor per definire alcune cose insomma in questi tre giorni sono stato molto stanco quindi lunedì sera dopo l'ultima lezione della sera non avevo voglia di fare il podcast l'ho rimandato al giorno dopo ieri martedì mattina ma poi alcune cose sono accadute qualche piccolo problema e diciamo che nella giornata di ieri il mio umore non era assolutamente quello giusto per registrare un nuovo episodio diciamo che c'è stata qualche piccola difficoltà nella vita personale beh sembra che le cose oggi vadano meglio che forse presto tutto troverà una un equilibrio nuovo una soluzione un equilibrio nuovo quindi questo mi permette oggi di concentrarmi meglio anche sulle normali attività di lavoro ieri infatti non ho fatto molto anzi posso dire di aver fatto solo delle elezioni e per il resto del tempo mi sono dedicato un po a cercare di distrarmi da alcuni pensieri infatti ho camminato molto come faccio di solito e poi finalmente sono anche riuscito a correre anche se è stata una corsa abbastanza breve anche se non è stata una corsa molto veloce ho corso sei chilometri con un passo di sei minuti al chilometro quindi circa un minuto anzi più di un minuto sul mio passo normale quindi una corsa sicuramente semplicemente per provare a correre e per fortuna è andata bene fino alla fine non posso dire che tutto sia stato perfetto oggi sento ancora dei fastidi al tendine di achille ancora continua a brontolare comunque a farsi sentire metto come sempre una pomata cerco di massaggiare polpaccio insomma non è ancora al cento per cento recuperato però ieri sono sono riuscito a correre di sei chilometri questo già buono soprattutto sono riuscito a provare le mie scarpe nuove di cui non dirò la marca nel modello perché non faccio pubblicità ma sono scarpe molto popolari di una marca molto popolare per correre è una marca che non ho mai provato prima sembra buono sembra adatto al mio modo di correre alla alle mie ma le sensazioni che mi piace sentire in una scarpa non sono troppo molleggiate quindi non hanno troppa ammortizzazione o in realtà ce l'hanno ma non si ha questa sensazione gelatinosa questa sensazione di un gel molto morbido ma si sente che c'è un'ammortizzazione che assorbe questo impatto con il suolo e che quindi non causa troppo stress a ai piedi alle gambe insomma a tutto tutte le articolazioni e questa è la cosa importante infatti nonostante qualche piccolo fastidio ho potuto completare questi sei chilometri anche se con la sensazione di non poter andare oltre anche perché involontariamente alla fine questo è un meccanismo questo è un meccanismo automatico nella mia testa e nelle mie gambe inizio con un con un ritmo con un con un passo e poi piano piano questo passo diventa più veloce quindi alla fine della corsa avevo iniziato ad essere un po troppo veloce per il mio tendine d'achille quindi anche per questo forse ho iniziato ad avere la sensazione di non andare di non poter andare oltre ma comunque la corsa è stata buona ma la cosa più importante però di tutto questo è che dopo una serata un po più difficile perché insomma il pomeriggio ci sono state le lezioni o corso ci sono state le lezioni sono stato molto impegnato la sera dopo una pizza e una birra questa volta avevo voglia di di pizza perché dovevo tirarmi un po sul morale la serata è stata un po più come dire po più difficile ma perché non avevo molto da fare e non avevo voglia di fare molto fatto solo una breve chiacchierata con un amico e poi sono andato a dormire ma per fortuna sono riuscito ad addormentarmi ma mi sono svegliato prestissimo questa mattina però come dicevo prima la cosa davvero importante che poi per fortuna durante la mia passeggiata alcune cose sono decisamente migliorate la situazione è tornata ad essere più come dire meno stressante molto meno stressante certamente non è stato un buon tempo ma insomma diciamo che si è visto del sole e quando si intravede il sole si si può vedere il sole anche se in mezzo a un po di nubi in mezzo a un po di nuvole quando si ricomincia a vedere il sole insomma è un buon segno e bisogna guardare esatto proprio da quella parte dove c'è il sole perché quello è la cosa normale dove dove c'è il sole quindi si può tornare a stare più tranquilli si può tornare a sorridere un po anzi più che un po e si può tornare ad essere positivi come mi sento in questo momento molto più positivo e quindi capace di tornare a fare il mio lavoro questa mattina molto presto ci ho provato ho provato a registrare un podcast ma non ci sono riuscito era una schifezza scusate l'espressione quindi non vi farò mai sentire quello che io in realtà non ho neanche finito ho provato iniziato provato a fare qualcosa ma davvero non me la sentivo di continuare quindi ho lasciato perdere insomma questo tentativo adesso invece il mio amore è molto migliorato la situazione è più sotto controllo quindi è arrivato il momento ecco di registrare il podcast e sono contento di averlo fatto è un podcast un po diario questo quindi potrebbe essere in realtà uno speciale anche se non ho parlato di molti particolari ma è un podcast di quelli che servono a me più che a voi ma che è ancora buono per fare un po di esercizio di ascolto e di comprensione resterà in questo 30 novembre questo episodio 595 per farmi ricordare un po che in mezzo alle nubi quando si intravede il sole bisogna essere positivi ottimisti e piano piano le cose cominciano a girare nel verso giusto con un po di pazienza un po di impegno e soprattutto molta positività che non bisogna mai perdere è importante questo sì anche se a volte è difficile ma bisogna provare ecco provare e quindi con questo è un po tutto questi sono stati tre giorni in quattro praticamente giorni dall'ultimo podcast ho registrato l'ultima volta per fino a venerdì quindi sabato domenica lunedì e martedì insomma questo è quello che è successo in parole molto povere ma ovviamente è stato tutto un po più complesso che giorni molto faticosi stressanti anche per il lavoro lunedì ero abbastanza stressato perché nel fine settimana davvero avevo lavorato molto e con questa pubblicazione del primo della prima puntata speciale era un po nervoso quindi insomma oggi queste nubi cominciano a dissolversi e quindi c'è più tranquillità più calma e tutto quello che serve per andare avanti andare avanti e fare delle buone cose non ho notizie oggi per voi dall'italia sicuramente è successo qualcosa io non l'ho notato c'è qualcosa di importante però che devo o il dovere di 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 dire o qualcosa da commentare certamente anche se velocemente questa tragedia di ischia in cui sono hanno perso la vita diverse persone questa frana che ha inghiottito che ha portato via molte abitazioni e con loro anche molte vite è una tragedia che tutta l'italia insomma piange e ovviamente adesso ci sono anche molte polemiche sulle cause e sulle colpe e sulle responsabilità di questa tragedia ma non è questo l'episodio in cui voglio parlarne questo era un episodio un po più personale non voglio quindi aggiungere altro su questo magari ne parliamo nei prossimi episodi non ho neanche un aforisma o forse potrei usarne uno proprio che mi viene in mente in questo momento uno mio a volte non c'è un aforisma giusto per descrivere una situazione e forse il caso di oggi non ho aforismi abbastanza come dire adatti a questo episodio non ve lo lascio quindi chiudo l'episodio così e quindi non mi resta che ringraziarvi per avermi ascoltato ringraziare ancora una volta tutte le persone che hanno sottoscritto questo abbonamento e anche chi lo farà in futuro ma ringraziare tutti voi perché mi ascoltate e portate avanti con me questo progetto quindi sì grazie a tutti a qualcuno in modo più particolare per oggi è davvero finita qui basta così l'appuntamento con italiano in podcast è per l'episodio numero 596 spero di riuscire a registrarlo prima possibile forse anche stasera ma forse più probabile domani mattina vedremo vedremo ovviamente lo troverete come sempre sulla vostra piattaforma preferita quindi non aggiungo nient'altro vado a riposare un po adesso perché ho camminato molto e ho anche lavorato ci sentiamo presto dai quindi vi saluto e ciao a tutti